bene bene come avevo peraltro preventivato io poche ore fa il joker è stato confermato tra i film partecipanti intanto a questa qui scriviamo che è bellissima è stato selezionato per partecipare ai film in concorso la prossima mostra la 76esima mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia il regista Todd Phillips ha detto che sarà un monito contro la società, imperversa infatti la pazzia impazzano i pazzi gli stalker se vi recherete sul mio sito che spero sempre di rinnovare capirete che sono come quei giocolieri quei leoni da tastiera come il tizio con la sciabola dei predatori dell'arca perduta che cercano diciamo in maniera anonima sotto falsi profili di provocarti maggior ragione se diciamo in maniera sadica scherzano oltre il dovuto e vogliono in modo assai cattivo provocarti per indurti a reazioni diciamo scriteriate perché questi psicopatici vogliono farti passare per psicotico e quindi insistono violentissimamente a difamarti a inondarti di insulti bisogna insomma avere la stessa freddezza lo stesso aplomb del grande Harrison Ford dei predatori dell'arca perduta sì le offese di questo qui sono incontrovertibili da me già opportunamente salvate di screenshot e di un video non in elenco nel mio canale che è già stato depositato alle autorità competenti che stanno indagando in merito a questo vilissimo personaggio che si cela si nasconde nel buio soltanto della sua profondissima incurabile malattia mentale il suo disagio sicuramente abbiamo a che fare con una persona profondamente disturbata ecco il Joker in concorso a Venezia e io giro per i corsi senza seguire più nessun altro vostro maieutico maialesco discorso soprattutto se viene dalla bocca di questi personaggi insomma assai codardi sì mi dovrebbe arrivare fra qualche giorno la giacca di Ryan Gosling di Drive la indosserò insomma con questi personaggi bisognerebbe agire come Ryan Gosling di Drive ma è quello che vogliono perché poi si passa dalla parte del torto se anzi ti dicono che non solo diventi diciamo attenti alla loro incolumità ti dicono stai attento sono loro che danno gli avvertimenti dopo che hanno provocato a morte dopo che hanno provocato a morte cose che hanno sempre fatto durante la loro adolescenza diciamo che necessitava sicuramente di qualche cura psichiatrica di qualche rehab di qualche riabilitazione delle loro distorsioni mentali assai pericolosa ecco no no non bisogna agire come Ryan Gosling di Drive ti dicono ma cosa fai? minacce di impostazione fisica questo ha scritto insomma questo qui sì minacce di impostazione fisica però non si può neanche arrendersi dinanzi a loro screanzato sconsiderato bigliacco affronto ecco ma invigorirsi seguire le lunatiche trascendenze senza più farsi schiacciare dalla cattiva influenza di compagnie sbagliate senza più deprimersi e malinconirsi per colpa di maligni ascendenti senza rendersi dinanzi all'ignoranza agli uomini di panza opponendosi fortissimamente per innalzare in gloria il vessillo della propria unicità hissandosi nella monumentale resilienza epocale epicamente combattiva ad una personalità che vili impostori anzi voglio farti passare anche per uno che soffriva di disturbi di personalità quando sono loro che si creano mille profili insomma si quadruplicano decuplicano però non riducono mai il loro grado offensivo personalità che vili impostori cercano di demolire cercano tutt'ora come potete notare con la capziosa esecrabile riprovevole ripugnante arma dei ricatti ipocriti dell'arroganza a plebiscito del loro cafone mentalità figlia ed una putrescenza esistenziale tramandata di generazione in de generazione si debosciati nell'anima e dell'animo ostinati e facinorosi che insistono voracemente e offensivamente a volerti distruggere per inghiottire lo splendore immacolato del tuo cuore ribaldo affinché deperisca nella desolazione si strugga intaccato violato abusivamente truccato struccato la loro codardia codarda visione vetusta tocca ingiusta tocca il cervello e quindi vogliono toccare gli altri insomma della vita per far sì che nell'opacità dei loro livori soffuschi saffossi la cagione dei loro malodoranti cattivi gusti adattatisi al porcile fetente che profanatori di se stessi offendono acrimoniosamente acrimoniosamente le dignità altrui al fine di soggiogarla al materialismo all'edonismo di una società consumistica soprattutto dei loro candori rinnegati a favore dello spogliatoio come diceva Toto denudatosi donitore di una gran nignolesca tetra e terrificante strafottenza ingeneratasi per infettare il fradiciume e la marcescienza sempre di loro stessi già traviattisi estesi stessi stessi nell'aderire farisei a regole malate di mente quali sono malati mentali fottetevi voi il vostro senso demente della dignità ma ce l'hai un po' no 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 la mia dignità è questa siete voi che non ce l'avete insomma vi siete rivelati per quello che siete voi e voi e le voi e le vostre oscene regole d'onore siete dei mafiosi siete dei mafiosi beh lavori otto ore al giorno quindi non sei sfruttato no ma non sei sfruttato anche questa cosa dell'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro sullo schiavismo più che altro sulla sulla repressione un po' appunto come la dea Calì del tempio maledetto insomma ci sono tutti gli schiavi che credono a questo a questo santone voi e le vostre oscene regole d'onore siete dei mafiosi quando sento parlare di onore di dignità questi discorsi si sentono solo in Italia un paese appunto di mafiosi i quali dopo una settimana di porcate vanno dal prete confessore a recitare un fintissimo mea colpa nell'atto dell'or disconsiderati peccati che prima obliano nell'abluzione della benedetta acqua poi reiterano appena rimettono il piede fuori dalle chiese dei loro disonori mettono piede fuori dalle chiese dei loro disonori si super panegiri col mio ti dà fastidio Calembur barocchismo letterario odiosissimo sofistica aveva presa di posizione contro questi che giocano di imposizioni e vorrebbero metterti in quella posizione cioè a 90 di posizione gotica falotica slanciato ritruante di me stesso oramai lanciato siamo un suo duro contro gli inarrendevoli beotti di questo vigliacco branco stolto di tarrango di tonti ma non sono Rambo ma voi avete finito comunque di sentenziare da sceriffi lerci no no e cosa potete fare eh no sono io che vi denuncio andate avanti perché sono un uomo lanciolato per anni da costoro massacrato macellato sbudellato ricattato bistrattato maltrattato angariato ma non ancora affatto sfiancato né svilito anzi tutt'altro che infante e infranto in vero orgogliosamente incazzato già mai frantumato fervidamente schierato in battaglia di ripeto a tali fradici criminali perché tali sono è evidente palese la palissiano sei smodati e sfrontati no no non bisogna affrontarli con un frontale però zigzagare come dice il reiliotto di Copland ah si bell'imbusto che spavendamente spavendamente cammina a testa alata alta rafforzato oramai in maniera irreversibile induritosi come l'amianto in quanto non abdicherò né abbiurerò dinanzi torniamo appunto avete visto silence stessa cosa della dea cali ti vogliono costringere a dei credo fasulli vogliono piegarti insomma ecco alle loro le vostre ideologie villane che che vorrebbero recludermi nel pianto per oscurare oh sono solo sono solo piangiamo devo socializzare con chi con gli scemi ogni mio passionale vanto canto invece nel vento e quindi vanitosamente i vostri insulti non vi fanno più niente né caldo né freddo indosso oggi infatti l'impermeabile domani il montone e vi monto ieri forse la giacchetta della vostra l'urida pelle che pelle per questi qua ma poi non la smettono sono anche prevedibili non come dico io sono ci vuole classe anche nelle offese dicono sempre le solite cose sono ripetitivi siete degli zappaterra che si celano dietro apparenze fighe poi parlano sempre di fighe figone fighette sfigati siete meschinamente viscitamente ossessionati dal sesso più laido lurido tribale barbarico animale schifosamente anale protervi redenti e impunitamente fieri fieramente cioè da uomini commenti beluine bellicose rancorose fiere perseverate persevero nel ricusare la patologia della propria limitatezza nello sconfessare di bugie e frittate rigirate l'altrui individualità da voi calpestate immondamente nel disconoscere perfino le vostre conoscenze ristrette da scimmi astiose e violente quindi ti trovi questo tizio che ti scrive per bloccare ogni tuo spirito di intraprendenza ogni tuo spirito di iniziativa per buttarti giù insomma che non hai le competenze per scrivere di cinema e le sue dove sono in questo canale ha caricato tre video anzi quattro uno gliel'hanno cancellato per aver violato il copyright e altri tre due pescate chissà dove di una manifestazione torinese tre per dimostrare che insomma non è un fake no più di così ha due tre iscritti che saranno i suoi genitori insomma dei deficienti esaltati in padella vi esaltiamo tutto questo pezzo potete leggere al genius pop sì costoro vogliono angustiarmi stonearmi coglionarmi far sì che mi inferocisca così mi fanno passare per matto mi nacidisca e come loro mi imputridisca così che spezzato nell'amor proprio mi fuochi bestialmente imputtanito il verbo imputtanire alcuni vocabolari dizionari non lo troverete lo dice anche la crusca ma io non apparterrò mai la vostra zucca il vostro rusco a bologna significa immondizia mieloschi siete il trash siete da zoo siete primitivi neandertal invece oggi voglio essere pentotal ma guardo un po' mi avete fatto perdere la pazienza ma anche andrea pazienza insomma no io non voglio perdere invece la mia fantasia il mio spirito fumettistico appunto da giocarellone non potrete non potete più continuare ad affibbiarmi puttanescamente etichettature distorsive nel sigillarmi stigmatizzazioni figlie delle vostre aberrazioni corrosive io vado avanti senza tregua vi combatterò vi denuncerò e chiederò anche un risarcimento insomma comunque il Joker sarà presentato a Festival di Venezia io andrò con la credito stampa perché insomma per le mie collaborazioni giornalistiche me lo sono meritato mi sono meritato di farmi questo regale di farmi questo regalo anticipato il mio compleanno il 13 settembre ma fra pochi giorni mi arriverà la giacca di Drive chissà indosserò però forse anche il papillon giacca col papillon al Festival di Venezia vi saluto e lasciamo perdere questi pazzi lasciamoli nella loro tristezza nella loro demenza dicono anche non puoi mentire a te stesso devi redimerti ma da cosa? da voi? ma mi redimo subito? subito? ma proprio proprio menesimo in quanto sono esimio ebbene il giocatore con Joaquin Phoenix sarà presentato in concorso a Venezia è ballo twist e voi siete sempre più triste è ballo twist twist adesso andiamo in giro fa caldo molto caldo andiamo a vedere se c'è qualche in giro qualche bella fighella qualche bel passerine no? a quale talent show si è presentata Elodie prima di arrivare ad Amici? a questo dove è arrivata a seconda avete presente la scena di Diana Jones Predatori dell'Arca Perduta c'è il tipo no? è indiana indiana? si è roto il cazzo dai affagola a mano è azzurro il pomeriggio è sempre azzurro è lungo? è lungo per me per te non è lungo è il tuo io sono cambiato da così no da così da così è diventato da così a così così svalutazione svalutazione grazie a tutti grazie a tutti E' bello, ma chi pensi di essere? Johnny Enzo, B.C.S. Mickey Rourke, può essere, può essere, io potrei essere molto, molto, molto superiore, meglio rispetto a Mickey, i miei Mickey Mouse, Topolini, eh sì, non tutti nascono il genius potto, mi dispiace per voi. Che siete tristi? Che siete tristi? E che non sapete più cos'è? E che siete tristi? Vali città do, Vali città do